vi presento il Belly Lovenz che sarebbe una scultura del pancione con le mani poggiate sopra vedete la forma che hanno scelto, la posizione scelta, forma di cuore vedete l'ombelico in questa scultura però bisogna restaurarla, infatti ci sono dei pezzi da togliere e sto utilizzando il trapano elettrico ecco qua, con questo sto andando a togliere le parti di gesso in più questa è la fase del restauro, ci vediamo al lavoro finito